Benvenuti sulla TV, sono qui in compagnia di Mirko Mazzini, ciao Mirko Ciao Conduttore di ElectroTV, Mirko di cosa si tratta? Che cos'è ElectroTV? ElectroTV è un programma che parlerà di musica elettronica, avrà come ospiti DJ e produttori che si racconteranno attraverso le proprie produzioni musicali e le proprie tracce Quindi ElectroTV parlerà di tutto il mondo della musica elettronica, di tutti i generi? Quindi qualsiasi genero della musica elettronica attualmente esistente, sì, tecno, trance, house, proprio qualsiasi genere musicale Quindi l'opportunità che avete voi che ci state ascoltando da casa, produttori, DJ, di questo genere è di poter diventare ospiti, di poter essere i prossimi ospiti di Mirko a ElectroTV Quindi iscriveteci a electrotv-latv.it e Mirko sarà ben contento di ospitarvi all'interno della sua trasmissione Io Mirko ti ringrazio tantissimo e diamo quindi appuntamento a ElectroTV con Mirko Mazzilli Ciao a tutti Ciao